Credo che fra un paio di giorni sarò di ritorno. Beh, le auguro buona fortuna, signora Miranda. Grazie, Caterina. Ne avrò molto bisogno. Signora Miranda? Sì. Se lei parte per la tenuta Lincoln, allora noi non la vedremo più. No, no, non vi dovete preoccupare. State tranquille, mi rivedrete. Sì, perché questo sarà un viaggio molto breve. Io lo chiamerei piuttosto una gita per rilassarmi e tornare in forma. Ma io credevo... Mi scusi. No, sta tranquilla. Che carina. Se non sbaglio ti ho detto mille volte che non devi credere a tutto quello che senti. Presto io sarò di ritorno e tutto sarà di nuovo come prima. Scusi, signora. Sì, quindi lei tornerà in questa casa? Sì, tornerò in questa casa. Però quando verrà la signora Manuela... La signora Manuela non conta niente per me. Per me esiste soltanto la signora Isabella. Che avevi da fare di tanto importante? È un bel po' che ti aspetto. Sta tranquilla Isabella, abbiamo ancora tanto tempo. Il medico ha detto che dobbiamo essere in clinica alle dieci. Quindi sta tranquilla, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Beh, a me non importa. Avevi detto che saresti arrivato presto. Isabella... No, lasciami. Isabella, non trattarmi così. Voglio vedere se continuerai ad amarmi se l'operazione non riuscirà. Credo di averti dimostrato che ti amo in ogni momento, quindi non devi essere giusta. Emilio... Ti prego, guardami. Guardami. E se l'operazione dovesse fallire? Se restassi sfigurata? Se dovessi restare un mostro per sempre? Ci saranno due persone... Che ti ameranno per tutta la vita. Una è Miranda. E l'altra sono io. Signore Emilio... Mi scusi, ma credo che questo sia il momento più adatto per scendere. Ora non c'è nessuno. Allora andiamo. No, è più prudente che vada avanti lei, signore Emilio. Vieni. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.